Musica Si è svolta questa mattina nella sede di Ascoli una conferenza stampa di Confindustria indetta dal presidente Bruno Bucciarelli prendendo spunto dai 125 anni della pantofola d'oro che ha annunciato sei nuovi modelli di borse e la nuova collezione footwear pantofola d'oro in esclusiva per Jackerson e dal successo che questa azienda ha ottenuto in occasione del 79esimo Pitti Uomo i temi centrali dell'incontro sono state le considerazioni sul nostro territorio e sulle potenzialità imprenditoriali Presente alla conferenza stampa in rappresentanza della prestigiosa azienda l'amministratore delegato della pantofola d'oro Kim Williams